Ditemi voi se questo modello è sostenibile, lavori sempre, guadagni poco, ma in ferie dal 6, ve l'ho rimesso in sovraimpressione, penso che userò, perché vi ho fatto una foto, lo userò come copertina di questo video, e chiusi per ferie dal 6 all'8 agosto, 5 giorni, 5 giorni, dopo che ti sei spaccato, e devi stare aperto perché probabilmente se non può fare più giorni perché non ci sono abbastanza soldi, ok? Perché? Perché voi mi volete ostinare? Il modello vecchio è morto, quel modello in cui tu andavi a lavorare, il tuo lavoro dipendente, poi facevi il mutuo, ti compravi la casa, e lavoravi finché non andavi in pensione, è morto, l'Inps è uno schermo a Ponzi, l'Italia collasserà per questo motivo, la pensione non neanche, cioè, siamo messi malissimo.